Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! Dark and Darker, la sorta di Tarkov nel Medioevo, ma a differenza di Dark and Darker questo sembra essere molto meglio, quindi lo sto provando dal tutorial, sto provando la modalità desktop di registrazione perché è un gioco con gli anti-cheat quindi non riesco a registrarlo, è in prima persona rispetto a tanti altri giochi magari Dark and Darker che è in terza e praticamente siamo appunto nel tutorial quindi mi sta insegnando come giocare, ora lo proviamo, è un po' Souls-like volendo, merda, ci sono diverse classi da poter fare, ok, ne sono uscito abbastanza con le rosse rotte e qua c'è la modalità di loot, quindi possiamo andare a lootare e equipaggiare la roba che abbiamo trovato, Premium Silver Goblet vale 500 quindi ce la portiamo via Ok, così ci facciamo anche un'idea, come modo di muoversi il feeling è un po' quello di Skyrim Bandage, ok, queste sono le mie statistiche, l'ho buttato per terra, niente, dovevo prenderlo, l'ho buttato per terra, vabbè, l'ho trascinato fuori, pazienza, cercherò di non morire Bellino il fatto che sia demolibile tutto Passo Graficamente nulla di sconvolgente per quanto questi sassi siano fatti veramente molto bene, ci sono tre vie ma qua soprattutto c'è secondo me qualcosa che vedete che mi ha dato zero di vita Adesso cercherò di schivarlo Lo scheletro è fatto benissimo, ci ho visto da vicino veramente È bellino perché cambia veramente il danno se lo colpisco alla testa, sto cercando adesso di sopravvivere Tengo premuto E gli ho fatto male Ma probabilmente il tutorial sta cercando di darmi una mano Sì, probabilmente sì Vediamo se trovo qualcos'altro da mettermi addosso, anche i pantaloni E un altro goblet, replica Di un certo valore E qua è chiuso, vediamo se c'è qualcosa qui Si posso colpire le candele? No Ma me lo aspettavo Qua sotto vedo che c'è una barchetta Quindi probabilmente quella che serve per uscire Gli effetti di luce sono molto belli, l'ambientazione mi piace tantissimo Spero di trovare questa volta un Delle bende No, ho trovato una spada Vediamo un po' che cos'è 122 fisico 122, è identico Più 4, più 4 Più 2 Destrezza Ok, no, è meglio di quella che ho Quindi la metto al posto di questa Ok, un po' meglio Avrei bisogno delle bende ma non le ho Probabilmente le ho buttate Prendendo G c'è la torcia Quindi possiamo vedere Possiamo anche alzarla E vedere meglio Premendo 1 torniamo a questa modalità Premendo questo invece prendiamo la spada a due mani Ci farà fare lo sneak Premi 2 E premi Q Per attivare Merda Ok C'è un indicatore che mi lascia C'è un cooldown Sto conteggiando bene i colpi Perché Non mi piace Con la spada a due mani I goblin Sono sempre Carne da macello Broken Eh, me li metto Tanto mi proteggo meglio Ma l'altro dove è andato? Soprattutto quello Ce n'è uno ancora vivo in giro Life essence Posso berlo? Cannot equip No Mi è scappato lì Ma qua cosa stavate facendo? Vabbè, ascoltate Ah, devo mettermi a due mani Eh, tanto è morto Se mi metto due mani posso usare quelle abilità lì Allora, sì, clicco col destro e me la prende Ok Cosa c'era qui? Ah, ok È una divinità Qua invece Ok Ovviamente questo è il tutorial Ma Quando poi finiremo Potremo giocare con gli altri Mi metto in modalità E premo Q Un po' sprecata Ma va bene Abbiamo lasciato qualcosa Sì Spero di trovare veramente una benda Ok, perfetto Adesso la prendo Eh, li devo mettere lì Ok E come li uso? Tre Uso la benda Ok, questa è la classica cura un po' alla Tarkov Quindi ci stiamo curando la vita La vita viene riempita lì in basso In quel Praticamente quell'asset da Diablo Uno Apriamo la porta E andiamo avanti Effetti di luce eletto Molto bello Mi piace Mi piace molto Com'è Abbiamo la spada a due mani Adesso mi lancio con questa modalità qui E me li suono come zampogne Perfetto Non mi piace a due mani Però torno alla prima Allora Lutiamo Ah sì Così mi curo ancora Questo Posso metterlo Vediamo un po' se è meglio 8-12 8-12 No, è identico È identico Scarpe Che ancora siamo senza E quest'altro Che non so cosa sia Ma non è una cura Abbiamo un forziere Pozione E questa me la mette lì È una spada 158 E qua direi 122 Quindi basta quello La equipaggio È una spadona a due mani Ok Quindi qui usiamo solo due mani Perfetto Guardate Mi uso Le bende ancora Mi piace tantissimo La mappa Premendo M La apriamo Perché è veramente molto bella Voglio curarmi Mi sono fatto male ancora Mannaggia Vorrei In alto c'è la bussola Come vedete Voglio bere anche l'altra pozione No, me la tengo Per i casi di emergenza E non credo ci sia altro C'è un tasto E Che è un'altra mossa Sì La carica E infatti Non me la voglio buttare Perché di là C'è un tizio Molto molto cattivo È free to play Cavoli Io mi domando Onestamente Come in tutti i giochi Free to play E ve lo dico Senza girarci intorno Mi domando È carino È bello Sembra fatto bene Sembra che Possa Essere uno di quei giochi Che posso proporre A un amico Ma mi domando Dov'è la fregatura? Perché è free to play Mi sembra tutto molto bello Ma dov'è la fregatura? Oh, stavo per premere ancora Quattro secondi Vai Fuggi sciocco Premo Bevo E sono felice Bella la bevuta Della prozione Con la fiaschetta La vita che sale piano Se io gli gira È mica scemo Ok Mi ricarico ancora un po' Gli do Una Una piccola E adesso Ci scateniamo Via È morto Ce l'abbiamo fatta Ok Allora Premium Morse Statue Ok Vale un sacco di soldi questa Va bene Allora Adesso Dobbiamo andare più in profondità Quindi Andiamo Ok Ok È un po' Fa un po' Anche Lords of the Fallen Abbiamo salvato questo Questo quello qui Ok Ma l'ho mancato Però mi ha mancato Bello sistema anche Di schivata Ok Quindi sono Ma Continuo Ah no 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 Ok Fa esattamente il doppio del danno Della Della spada Della spada liscia Però Questa è una mummia No ragazzi Siete un po' Troppi qui Eh però C'è anche un Beholder Beh Fortunatamente non è un Beholder Se non sarei già morto Vabbè Io sono morto Probabilmente Era voluta Sta cosa Però Qui comincia Perché voleva farci morire Per forza Ora Abbiamo Diverse classi C'è Il Guerriero Abbiamo Il prete È un healer Quindi potete giocare con un amico Uno fa il guerriero Uno fa l'healer L'altro sta un pochino più indietro Il Rogue Che è il classico Furtivo Assassino Il Pyromancer Quindi Mago del Fuoco Che mi si addice molto Il Death Knight Che anche questo Mi piace molto Mi ispirava anche Il Creomancer Ok Il Druido Mi ispira Swordsmaster Che lo arma A due mani Praticamente abbiamo Uomo e donna Per tutti No Per questi Si Però io Il Druido È molto interessante Perché ha Le sue abilità Forza La natura Prima La Awakening E le sue Abilità Che poi Cambiano In base A cosa Scegliamo Quindi noi Scegliamo Un personaggio La faccia Non mi interessa Più di tanto Adesso Lo creiamo Cioè Chi è che ha preso Indy Vabbè E qua Comincia Con Le guide Iniziali Praticamente Si parla di Corrosione magica Quindi il tempo passa E praticamente Noi dobbiamo uscire Rapidamente Escape portal Praticamente si esce Al portale Ci sono portali Corrotti E qua È da leggere Ritual scroll Ok C'è un sacco di roba Da fare Praticamente Ora Abbiamo Qui L'heirloom Quindi abbiamo La possibilità Di vendere La roba Credo Io Posso vendere Sì E ottengo Un po' Di soldi Ma posso Anche Craftare Perché quella roba Che ho appena buttato È la roba Da usare Per il crafting Però vabbè Questo è il mercante Quindi vende Prapo E tutti gli altri Abbiamo L'alchemist Che ci consente Di comprare Pozioni di cura Fiaschette varie Le heirloom Che abbiamo visto È la possibilità Di craftare I menu Sono praticamente Quelli di Diablo Posso Smontare Però io Adesso non ho La roba di prima Perché Ho cambiato classe Ho cambiato tutto Posso smontare Armi O posso andare A sbloccare Queste cose Ok Questo è il crafting Il merchant L'abbiamo visto Il trade Abbiamo Ah questa qua È una sorta di asta Per tutti i giocatori Con tutti gli oggetti In vendita Lo shop Eccolo qui Lo shop È questo È questo E credo Sia roba estetica Adesso che mi viene in mente Mi pare di aver sentito Che sono cose estetiche E qua ci sono le quest Che dobbiamo trovare Uccidi 10 mostri Come Cavaliere della morte Per ottenere 20 Life Essence E 4000 monete Quindi per il crafting Ci sono le daily Le wiki E le seasonal Qua sotto Me lo stavo domandando Ma mi sono risposto da solo Qua sotto C'è la possibilità Di invitare amici Fare un quick team O invitare amici Da steam E C'è la season Non so se ci sarà Un pass Ma qua c'è il camp Ok Il gioco sembra Essere promettentissimo E Veramente molto carino Soprattutto perché Invitate un amico Entrate Fate la nana insieme E cercate di uscire Senza incappare A questo punto Presumo anche Contro altri giocatori Qua ci sono le mail Che mi mandano Soldi Quelli del gioco Insomma Le leather boards Con le altre persone Tra l'altro Dovebbe esserci Eccola qui La guida Voglio capire E anche pvp Quindi si incontrano Anche altri player Quindi insomma Sarà da vedere Assolutamente interessante Gia Veramente molto bene Non è in italiano Ma ce n'è veramente bisogno Non escludo Che magari in futuro Lo metteranno in italiano Ma direi che il gioco È ampiamente promosso Free to play Ricordatevi quindi Lo scaricate E lo potete giocare gratuitamente Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se avete apprezzato il video E soprattutto Se lo avete già giocato Fatemi sapere La vostra esperienza Qua sotto Che io Leggo sempre Tutti i commenti Io con questo vi saluto E vi rimando A un prossimo video gameplay Alla prossima E ciao ciao